Ma che ne ho vado a vedere qui? Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Mi sento come sono tornato a casa. Sono tornato. Molto bene, grazie. Trattoria Maristella. Che finisci fuori o dentro? Fuori. Ciao, buongiorno. Un'altra volta. Vongole alla marina. E dopo, fregola con cozze e vongola, per favore. Torvata di partinello, per favore. E anche acqua. Si, senza gas. Probably. Come si chiama questo? Pane guttaes. Pane carasso con olio e sale. Pane guttaes. Sussi guatiale. Sussi guatiale. Sussi guatiale. Sussi guatiale. Vuoro che è ora. Lucaio, cuacchiaio. Sussi guatiale. Posso avere un cucchiaio? Certo, ti porto troppo e non è fresco il vino. Ah sì? Cento gemme. Cento gemme, sì. Potrei farpinello per parte. Buono, buono. Grazie. Il corpo è buono, c'è un buon piede, la facilità è buona, c'è molto bianca, un po' di pezzi. Perfetto, grazie. Perfetto, grazie. Grazie. Cambacare è di un cucchiaio. Il corpo è di lui. Ho un po' di un cucchiaio. È un cucchiaio. E quindi, ecco. Un cucchiaio è veramente buona cosa. C'è anche un cucchiaio di un cucchiaio. Un cucchiaio. Il resto è solo. Un cucchiaio di un cucchiaio. Ci sentire un uomo. La cucchiaio è bisognava fare fare fare. Occhiaio è messo, oh 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 this is damn good tutto bene caro tutto bene e apprezzando il vino molto bene conoscevi già torbato questo è un vitigno che si fa solo in questa zona il locale esatto per questa ragione ho mandato grazie grazie today's lunch is more much more satisfying than previous dinner here because i had all the soup thanks to cucchiaio cucchiaio that was the key questo rotondo è fregola fregola sarda tipica pasta sarda sempre di semola tostatura media arriva dal centro della sardegna cozze vongole comodoro fresco un po di prezzemolo un po di pesce e via torno subito non si chiedeva, non si chiedeva? 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 ok quindi questa pasta è fregola interessante qui cucchi e muscoli sono molto buoni la ricetta è molto bella e questa è ancora più bella Sì, sì, sì. questo è davvero buono se si è piaciuto e se si è piaciuto questo è perfetto molto molto buono buonissimo incredibile se volete a Sardegna, questa restaurant è sicuramente no, è vero se volete a Italia se volete a questa restaurant come si è possibile in questa restaurant la città è buona e la servizia è buona e la ricetta è buona e la ricetta è buona questo è solo 20 anni quali è buona seada è davvero bello seada è buona seada è buona seada in Sardegna devo mangiare seada seada con la miele vorrei anche un momento per favore non c'è problema essere qua tu dove sei? dalla Corea del Sud da Seul ok, fantastico la prima volta che conosco un coreano c'è anche Mirto certo che si e dopo Filo Ferro anche qui l'abbiamo prima seada poi Mirto e poi Filo Fiora facciamo così e dopo potrei portare via questo vino certo che si grazie potrei avere un bicchiere di vino dolce certo abbiamo due opzioni abbiamo un moscato di Dolianova altrimenti abbiamo vino licoroso di Alghero sella e mosca si chiama Angelo Ruyo che è un riservo del 2005 il prezzo è uguale Angelo rosso? Angelo Ruyo Ruyo sarebbe rosso in sardo ah rosso in sardo vino licoroso di Alghero si 2005 si ed è molto molto interessante ah si quanto costa? 5 o 6 euro adesso non ricordo bene si te lo faccio assaggiare prima così vediamo se ti piace si grazie ho teglia appena aperta buono vero? buono si te l'ho detto e quanti gradi? 18,5 ah si grazie mille di niente caro seada si grazie con il miele con il miele ah ah looks delicious ah it's crispy there's cheese inside yeah this is really good with the dessert legal wine very good very good very good then mirto mirto bottiglia acqua dell'acqua artigianale ha fatto da noi ha fatto da grande capo ah ah e di profumo ah 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 e di profumo grazie è apprezzato sì grazie e mirto in inglese blueberry? yeah berry something with the berry ah 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 non è tequila è tranquillo ah è un filferro filferro vero assolutamente sì fatto da un mio amico ah sì è di usini sì vicino sassari sì ah vicino sassari esatto ah i'm so excited saluti grazie niente grazie a te all right this one is very floral il doppio grazie dimmi quanti gradi almeno 40 almeno 40 almeno 40 sì per esempio c'è una cosa bere mista di caffè e grappa si caffè corretto caffè corretto caffè corretto 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 grappa corretto rum corretto whisky corretto come vuoi tu anche io uso il caffè corretto per dirti sì ahahah grazie ti faccio una domanda sì ma tu sei qua per lavoro vacanza mezzo lavoro ok sì mezzo lavoro e mezzo ok viaggio aprir spiegare il caffè corretto eh sì ahahahah caffè corretto caffè corretto caffè corretto ahahahah caffè corretto corretto il conto per favore è molto buono grazie grazie mille però penso che non devo bere tutto se bevo tutto il mio domani sparirà ok ti capisco perfettamente anche perché hai bevuto da grande ah sì ma come ti chiami? Jay Jay io sono Daniele Daniele? molto piacere molto piacere ah sì il caffè offerto ah grazie grazie mille un tappo per il vino ah sì perfetto ho anche una gustina ahahahah so cheap so cheap first plate and second plate then a bottle of white wine then the table charge liquor dessert pre-indigestive indigestive which is grappa so cheap incredible i love sardinia i love sardinia on the first day 1월 말에 서울 송파구에서 와인 팝니다 전국 최저가 와인들 진짜 많이 준비했어요 하나하나 깐깐하게 블라인드 테이스팅해서 고른 와인들을 200가지가 넘게 준비했어요 1월 23일 화요일 저녁 6시에 winekingshop.com에서 와인리스트 대공개합니다 제가 직접 자리를 지키면서 여러분들 맞이할 거예요 주전자 하나당 재료비만 수십만원을 들여서 끓인 미친 뱅쇼도 뜨겁게 여러분께 한잔씩 공짜로 따라드릴 거예요 1월 마지막 주 주말에는 잉킹이네 꼭 놀러오세요 1월 마지막 주 주말에는 잉킹이네 꼭 놀러오세요 고맙습니다 고맙습니다